Ciao, la volta scorsa abbiamo visto i principali modifiers utili nel momento in cui facciamo dei disegni statici come in questa prima fase di corso. Andiamo oggi a vedere gli effetti che sono molto simili ai modifier. Allora come in altre occasioni approfitto un attimo per preparare un disegno e ci risentiamo quando ho finito. Grazie. 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 Ora il disegno in questo caso non mi è uscito un granché ma andiamo a vedere gli effetti. Allora i modificatori avevano il simbolo della chiave inglese, gli effetti hanno questo simbolo di una bacchetta magica si comportano esattamente allo stesso modo quindi se abbiamo imparato a usare quelli è molto facile utilizzare questi sono diversi adesso li vediamo piuttosto velocemente perché vi consiglio comunque di andare a provarveli da soli allora blur significa sfoca come vedete l'immagine si è già sfoccata posso regolare il fattore di sfocatura orizzontale e verticale come vedete la sfocatura viene fatta attraverso una copia varie copie dell'immagine e infatti questo samples indica quello diciamo meno ce ne sono meno copie dell'immagine ci sono quindi più le alzate più la sfocatura risulta migliore ovviamente è anche più difficile da calcolare rimettiamoli in attimo dove erano notate una cosa che qui non abbiamo la selezione dei materiali o dei livelli ed è quella la principale differenza tra modifiers e effetti come vedete comunque il resto del funzionamento è uguale cioè anche gli effetti posso decidere di nasconderli in fase di visualizzazione o in fase di rendering come ho fatto in questo caso nascosto in fase di rendering adesso l'ho ripristinato in fase di rendering e il vantaggio è che si possono aggiungere e togliere a piacimento quindi esattamente come per i modifiers possiamo fare delle prove metterli e poi toglierli allora blur serve a sfocare colorize assegna un unico colore all'immagine quindi per esempio questa è una conversione in scala di grigi il mio disegno era già in grigio per cui in realtà non è cambiato moltissimo ma provate a guardare cosa succede se scelgo seppia ed ecco che abbiamo un'immagine virata sui toni del seppia duo tone significa solo bianco e nero e trasparente lo trasforma in un'immagine trasparente e qui posso regolare il fattore custom posso scegliere un mio personale colore nel quale convertire l'immagine notate che però il comportamento è sempre un po strano cioè per esempio qui non so come mai viene in versione negativa quindi fate delle prove perché in alcuni casi il comportamento va a influire anche sul valore dei colori per cui appunto se mi sposto qui le zone scure rimangono più scure ma come eravamo prima qua ho ottenuto quasi un negativo quindi anche qua posso regolare il fattore in ogni caso diciamo che l'uso più comodo è sicuramente questo seppia dopodiché flip serve a girare l'immagine in maniera orizzontale o verticale è semplicemente un effetto specchio sull'immagine dopodiché glow invece aggiunge un effetto di luminosità questo può essere utile per creare delle delle luci attorno agli oggetti se io premo use alpha mode ecco che l'effetto di luminosità viene applicato solo al di fuori delle aree coperte quindi in pratica il disegno l'effetto lo vedete è solo nelle zone che ho lasciato bianche posso scegliere una modalità col quale cambiare tra color e luminans e posso scegliere anche qui un raggio d'azione e samples quindi la qualità diciamo la soglia indica di intervenire meno sul disegno quindi vedete una soglia molto bassa lo modifica molto una soglia molto alta lo modifica di poco comunque appunto aggiunge degli effetti di luce e light lo vedremo quando faremo gli oggetti perché vedete che è rosso ha bisogno di un oggetto per funzionare di un altro oggetto e allo stesso modo anche swirl quindi questi due per il momento non li vediamo pixelate fa un effetto pixelato all'immagine anche qua posso regolare la quantità orizzontale e verticale rim aggiunge un bordino che di solito può essere comodo proprio per creare di nuovo delle luci sopra gli oggetti per esempio se invece della modalità moltiplica scelgo la modalità overlay ecco che viene creato in maniera automatica un effetto di luce qua posso regolare quanto si sposta da destra e quanto si sposta dall'alto in realtà è una finta luce in questa immagine per esempio non funziona molto bene se andassi a posizionarla così sul mio personaggio funziona già un po' meglio però avrei bisogno di staccare il personaggio dello sfondo come abbiamo visto gli effetti invece funzionano solo sull'intero disegno adesso ho scelto overlay se scegliessi moltiplica invece come era all'inizio il colore viene moltiplicato quindi viene scurita diventa più un'ombra che non una luce mask color è un colore sul quale non applicare l'effetto quindi se io torno per esempio a head che illumina vedete che il nero non è coinvolto invece se cambio il valore della maschera ecco che all'improvviso anche il nero viene coinvolto da questo effetto di luce shadow è simile a rim solo che è sull'esterno e quindi come vedete si tratta di una copia del disegno diciamo piazzata leggermente spostata e qua decido quanto spostarla qua decido il colore dell'ombra e anche il suo alfa cioè la sua trasparenza e viene appunto mostrato qui posso eventualmente ingrandire sulle x e sulle y l'immagine rispetto all'originale lo ripristino e posso anche ruotarla quindi crea un'ombra piatta di tutto quello che ho disegnato blur è la sfocatura che di base è a 5 pixel ma posso come abbiamo visto per il blur appunto cambiarla sui due lati posso anche metterla a 0 e ottengo una copia esatta dell'immagine adesso lo riporto a 5 e 5 use wave effect aggiunge un onda che andiamo a vedere subito perché c'è proprio un effetto opposta che si chiama wave distortion che applica un effetto di distorsione a onda all'immagine amplitude è l'ampiezza delle onde quindi quanto devono essere profonde period è il loro periodo quindi la frequenza più basso è il periodo più l'onda è lunga più alto è il periodo più l'onda è stretta e la fase non è nient'altro che lo spostamento dell'onda nella sua direzione quindi in questo caso che abbiamo delle onde verticali con phase spostiamo le onde esistenti verso l'alto e verso il basso scegliendo horizontal le stesse onde sono generate dall'altra parte su shadow qua se premo wave effect ottengo lo stesso effetto ma sull'ombra quindi questi qui possono ovviamente essere anche moltiplicati uno sopra l'altro se aggiungo l'effetto wave distortion e poi aggiungo blur come vedete si possono sommare però per esempio avete appena visto che non posso aggiungere due wave distortion qua sotto c'è scritto solo un effetto dello stesso tipo quindi hanno un utilizzo abbastanza limitato questi effetti sicuramente blur è comodo per sfocare uno sfondo sicuramente wave distortion può essere carino nel momento in cui si fa un'animazione immaginate di mettere contemporaneamente un colorize in seppia e pensate in un'animazione di regolare di muovere piano piano magari con un'ampiezza ampia è un periodo ecco immaginate che l'immagine comincia a fare così e inizia un flashback è un modo abbastanza tipico di farlo quindi alcune possono essere utili in animazione ecco rispetto ai modifiers non posso scegliere di applicarli solo a un certo layer o a un altro quindi questi visual effects hanno un utilizzo molto più limitato rispetto a quelli che sono i modifiers la maggior parte delle volte avrebbe senso utilizzarli non su tutta l'immagine ma solo su una parte perché ovviamente nella nostra scena in blender possiamo avere più di un oggetto gris pencil finora non ci siamo preoccupati di questa parte quello che viene chiamato outliner cioè l'elenco delle cose che ci sono sulla scena ora sposto la mia visuale nel mondo 3d qui sulla mia scena in questo momento ho una telecamera e un oggetto gris pencil la telecamera si chiama camera e l'oggetto gris pencil si chiama stroke finora abbiamo utilizzato blender in questa modalità 2d animation che ci porta già ad avere un oggetto gris pencil nella modalità pronta per essere disegnato dobbiamo capire che in blender gli oggetti che vengono creati hanno varie modalità d'uso e si trovano in questo in questa casella di selezione in questo momento e per tutte le lezioni precedenti noi siamo rimasti sempre in draw mode allora se noi ci spostiamo da draw mode a object mode ed è sufficiente selezionarlo ecco che all'improvviso il mio disegno è stato bordato da un bordo arancione e lo continuo a guardare e in questo momento vedete che il mio cursore non è più uno strumento di disegno attorno alla telecamera sono apparse delle informazioni in più è apparso un puntino sono apparsi appunto i bordi e i mini tool non sono più quelli di prima in object mode quindi è una modalità nella quale il mio oggetto e in questo caso per oggetto si intende l'intero disegno può essere modificato nella sua interezza quindi non può più essere disegnato ma viene trattato come un oggetto completo posso ancora accedere a molte di queste opzioni quindi per esempio posso andare a nascondere gli effetti se ho messo dei modifiers posso aggiungerli posso ancora visualizzare o togliere o cambiare il funzionamento dei layer rimuovo un attimo questo modifier e quindi in questa modalità object mode andiamo a utilizzare il disegno come un oggetto fatto e finito completato ci sono queste altre modalità vediamole un attimo velocemente poi piano piano le approfondiremo tutte quante finora noi eravamo in draw mode quindi se vogliamo tornarci possiamo sempre premere draw ed eccoci che di nuovo siamo nella modalità di prima gli strumenti ci sono tutti e se voglio riprendo i miei strumenti adesso ripristino lo sketch prendo di nuovo la matita e come vedete posso continuare il disegno in questo caso si comporta in modo strano perché mi trovo sul layer sbagliato mi trovavo qua su questo layer invece la mia matita l'ho fatta sul layer lines eccolo qua e quindi posso cambiare layer anche da quassù lines ecco adesso si comporta come l'altra quindi la modalità draw è quella che serve a disegnare l'abbiamo usata fino ad adesso possiamo andare nelle altre modalità utilizzando questo questo menu oppure utilizzando control tab control tab premuto insieme mi presenta in questo menu a torta le varie modalità che sono le stesse quassù quindi da draw posso ripassare a object in questo modo control tab draw control tab object adesso anche se sono in object mode posso comunque fare quello che facevo prima cioè nascondere sketch selezionare un altro livello e così via alcune di queste cose rimangono solo che non posso disegnare lasciamo da parte weight paint perché guarda soprattutto l'animazione però le altre modalità importanti oltre alla object mode sono sculpt mode e edit mode bisogna notare una cosa che quando mi sposto in sculpt mode oppure in edit mode come vedete la mia immagine cambia perché la sovrapposizione dei livelli non viene rispettata quindi in pratica mentre mi trovo in draw qui tra i miei livelli ho il livello luci che è in modalità add il livello che ho usato per fare le ombre è in modalità multiply se mi sposto in sculpt mode spariscono queste modalità anche se ci sono non vengono visualizzate correttamente quindi non abbiate paura il disegno non è cambiato però purtroppo non vengono mostrati in moltiplica e in pratica i blend tra i livelli quindi questa luce qua è diventata nera e questa ombra non fa l'ombra e così via solo in object mode e in draw mode il vostro disegno viene visualizzato esattamente com'è in più in sculpt mode e in edit mode appaiono queste righe che sono le righe dei segni che avete fatto cioè ci sono tutti i bordi di tutti i segni che abbiamo fatto se ci danno fastidio queste righe e potrebbero darcelo o comunque anzi diciamo se vogliamo evidenziarla in modo particolare possiamo spostarci qui sotto viewport display questo edit line color è proprio il colore di quelle linee quindi se io lo cambio per esempio con un verde ecco che ho scelto un colore che nella mia immagine non c'è e mi aiuta a vedere meglio queste righe ovviamente se abbasso l'alfa fino a zero le nascondo del tutto nel caso che non le volessi vedere comunque diciamo che se siete in sculpt mode o in edit mode in genere volete vederle lo sculpt mode è una modalità nella quale posso modificare il mio disegno attraverso dei pennelli lo vedremo bene la prossima volta comunque ci sono alcuni pennelli che permettono di fare dei ritocchi al disegno quello che posso fare è modificare il mio disegno attraverso dei pennelli che lo modificano mentre invece se vado contro il tab in edit mode questa è una modalità nella quale posso spostare e modificare tutte le parti del mio disegno anche questo lo vedremo con calma comunque questa è la modalità nella quale andremo a fare eventuali modifiche quindi adesso abbiamo imparato che finora eravamo in draw mode ed è la modalità che serve a disegnare tuttavia esistono queste altre modalità object edit sculpt e white paint che non useremo per un pezzo se torniamo in object mode ripristino contro spazio di nuovo questa visualizzazione adesso abbiamo la possibilità di creare altri oggetti gris pencil facciamo subito un esempio se io premo maiuscolo D e muovo il mouse ho in mano un duplicato del mio disegno ora che lo sto muovendo se clicco l'ho posizionato quindi vedete l'outliner che adesso presenta un nuovo stroke 001 oltre a quello di prima e ho un bordo arancione attorno all'oggetto se clicco su questo viene selezionato il primo se clicco su quest'altro viene selezionato l'altro a questo punto che questo è una copia potrei applicare come abbiamo visto appunto gli effetti solo a uno dei due e non a quell'altro ovviamente in questo momento l'esempio che ho fatto ha poco senso però potrebbe acquistarne molto di più se avessi un oggetto con la sedia un oggetto con il personaggio e un oggetto con lo sfondo da qui in poi io vi consiglio di dare un'occhiata a qualche corso base di blender nel quale possiate imparare a muovere gli oggetti nello spazio 3d perché cominceremo a usare queste funzioni per esempio adesso premo la x e cancello questo secondo disegno che in realtà era una copia del primo però appunto per farvi vedere come il nel momento in cui sono in object mode posso lavorare sul disegno nella sua interezza e crearne anche eventuali copie o creare dei nuovi disegni la prossima volta vedremo come abbiamo così concluso questo primo modulo del corso di blender gris pencil nel primo modulo mi sono concentrato soprattutto sulla modalità draw cioè su come utilizzare blender per disegnare come fosse un normale programma di disegno vettoriale ovviamente verrà adesso il momento di spostarci nello spazio 3d e quindi di vedere come utilizzare blender per disegnare possa diventare ben più utile che un tipico programma di disegno bidimensionale quindi la seconda parte del corso riguarderà appunto come disegnare nello spazio tridimensionale e anche come far diventare solidi i nostri disegni fatti con gris pencil per poterli quindi trasformare in geometria come nell'esempio che state vedendo adesso ma quale questi pali questi fili della luce sono stati disegnati prima con gris pencil per poi essere trasformati in veri e propri oggetti tridimensionali che possono gettare ombre e essere inseriti in una scena ovviamente disegnarli con degli strumenti manuali permette di fare molto facilmente delle forme che modellare nel modo tradizionale sarebbe decisamente difficile la seconda parte vedrà l'uso del disegno in 3d quindi vi consiglio di andare ad approfondire un corso base di blender per esempio sul sito blender.it potete trovare il corso base della versione 2.8 che vi permetterà di padroneggiare gli strumenti basilari del programma quindi come gestire gli oggetti nello spazio in tre dimensioni e quindi avrete le basi per poter seguire il resto del corso vi ringrazio e alla prossima lezione